Re dei Jet da Regent LB, metà della piegata conclusiva con Rapid F e Mario Rivara ancora al comando nei confronti di Record OK, poi Re dei Jet avanza in terza ruota, Ringmaster B seguito Franco Bollato da Ricettatore, ci avviciniamo all'addirittura d'arrivo con Rapid F che si difende da Record OK, Ringmaster B è ottimo il suo spunto in centropista, poi Ricettatore che viene a largo di tutti, è un finale davvero entusiasmante all'interno Re dei Jet e va a vincere Re dei Jet all'interno nei confronti di Ricettatore, poi Ringmaster B dunque vittoria per Carlo Bottoni al suo primo.